con il mercoledì delle ceneri ha inizio di nuovo il nostro cammino verso la pasqua e riprendono anche i nostri quaresi flash come lo scorso anno quest'anno però il tempo di quaresima inizia con delle notizie allertanti attorno a noi ma le sole armi ammesse in questo tempo di quaresima sono tre l'elemosina, il digiuno e la preghiera ma queste armi bisogna saperle usare bene perché sono armi che non fanno rumore ma vanno vissute nel segreto no non questo segreto ma un segreto che parla di un'intimità tra figlio e padre suo e allora il tuo impegno per quest'oggi è vivere il digiuno, la preghiera, l'elemosina e offrirli per la pace così come ci chiede il papa in questo tempo difficile